Stavo dicendo che i regraziamenti in primis vanno comunque al nostro sponsor SL Trasporti ai loro titolari Alberto Saracco e Dino Lucarelli i ragazzi ce l'hanno messa tutta sin dalla prima giornata, sin dal 23 agosto un grosso merito importante a loro e all'allenatore che credetemi è un grande allenatore quindi siamo felici, abbiamo raggiunto un obiettivo importante, 35 anni di federazione abbiamo affrontato questo campionato con 3.000 difficoltà però bisogna fare solo un grande applauso a questi ragazzi che comunque dalla prima giornata di campionato che sono in testa a questa classifica e penso che nessun campionato sia più meritato di questo per cui voglio fare un grande applauso ai miei ragazzi, alla città e a tutti quelli che ci hanno seguito in questo percorso C'è stato un segreto in particolare di questa squadra che secondo te ha dato quel valore aggiunto per il conseguimento della promozione? Diciamo che se devo usare un aggettivo è una squadra che è stata caparbia, una squadra che non ha mollato mai nonostante durante il campionato si siano presentate diverse difficoltà è una squadra che ha saputo sopperire con il carattere e con la capabilità a defezioni importanti vedi il nostro capitano per diversi mesi, vedi Avogadro che è dovuto andare via per motivi di lavoro a metà campionato, i Belissario e potrei fare una lunga lista e questo valora ancora di più quello che hanno fatto i miei ragazzi che sicuramente hanno fatto una cosa importantissima